Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. E quindi mi dicevi che ti ha tirato una craniata giocando? Ambicipiale, guarda. Allora, a due anni è un demonio, ce l'avevo in collo sul divano, scherzava con la mamma, perché lo scherzo è, si toglie i calzini, li appallottola, dice mamma tieni, la mamma arriva e lui fa no e non glieli dà. Facendo no ha tirato indietro la testa e mi ha preso sullo zigomo. Visto i miei trascorsi, nel condominio Baldini hanno menato, sicuramente ha fatto qualcosa, invece era mio figlio Leo, insomma. Allora, il mio ricatto a vita nei confronti di mio figlio sarà, io ti ho tirato fuori, perché l'ho tirato proprio fuori io quando è nato, io ti ricaccio dentro, capito? L'hai tirato fuori tu in che senso? Sì, sì, io sono andato in sala operatoria, in sala parte. Però non sei stato dietro a tua moglie? Allora no, io sono stato a fianco perché avevo un piede suo nel costato che mi premeva. Dall'altra parte l'ostetrica e tutti e due, vai, sembravamo tipo Navy SEALS, forza, tiralo fuori, così, no? Poi quando è uscita la testa, lei mi ha fatto, guarda adesso devo fare dei movimenti, poi se vuoi puoi tirarlo fuori tu. Io gli ho detto, ma magari. Ho preso e l'ho tirato fuori tipo coniglio dal forno e poi non solo, ho fatto anche il taglio del cordone umbilicale, perché era il mio sogno inaugurare mio figlio, insomma, in qualche modo. Non hai solo assistito al parto, praticamente hai cooperato. Sì, ho cooperato, ma è divertente, cioè io volevo fare il medico da piccola, mi sarebbe molto piaciuto fare il chirurgo. Dunque, come mi si è paventata l'occasione di assistere e di cooperare, l'ho fatto volentieri. Questa è una bella cosa. Come da copione partiamo dall'inizio. Sì, più dall'inizio di così. Sì, lì è il suo inizio, il tuo inizio di quando ti hanno tirato fuori a te. È però un po' anche il mio inizio, sai. È anche un po' il mio inizio. È un altro One More Time, quindi un altro tuo nuovo inizio. Partiamo dal primo. Allora. In che anno nasci? 3 settembre 1959, lo stesso giorno di Sadhguru, che poi dopo ho avuto modo di conoscere e apprezzare. Nasco bambino apparentemente felice, con papà e mamma a Firenze. Papà, allora, guardia filia alla SIP e mamma casalinga, un classico. Nasco io, poi nasce mia sorella, poi mio fratello. Siamo tre, mio papà si fa un bel mazzo per tirare avanti una famiglia di tre persone. Mio papà, un santo, votato agli altri. Lui era veramente la persona capace di sacrificarsi in tutto per gli altri. Un santo. Mia mamma soffriva di questo perché pensava che lui dedicasse più energie, più tempo alle altre persone più che a lei. Non ci faceva mancare niente. Secondo me il suo discorso era più dal lato affettivo. Ha un po' sempre sofferto di questa cosa. E noi tre, di cui io, la pecora nera della famiglia, il diavolo. Mia sorella, forse più diavola di me, è stata la prima a farsi le canne. E mio fratello piccolo, un santo, che ha preso anche lui dal papà. Questa è, diciamo, la famiglia Baldini. Dico apparentemente felice perché poi, a distanza di tempo, e lì bisogna fare un salto temporale di 50 anni, ho scoperto in realtà che non lo ero. Lo scoprì la tizia che mi ha analizzato, e sono andato nell'analisi, da un mio disegno di quando avevo sei anni, dove si vede io piccolo in mezzo ai miei genitori, che stanno in mezzo e io gli do la mano. Uno però guarda a destra e uno guarda a sinistra. Lei mi ha detto, probabilmente tu sin da piccolo hai sofferto di crisi di abbandono e non te ne sei mai reso conto. E da lì è venuta fuori poi una serie di problemi che mi hanno spiegato tante cose. Come è stata la tua infanzia a scuola, per esempio, andavi bene, oltre ad essere abbastanza agitato. Era un macello. Allora, andavo bene, perché io avevo scoperto che il professore è un narcisista, in questo caso il maestro. Bastava prendersi due appunti su quello che il maestro diceva, gli ripeteva, e anche se non avevo... Io vendevo i libri nuovi, praticamente, non li avevo mai aperti, perché io ripetevo quello che dicevano... E lui era contento. Lui era contento, mi dava un bel voto, perché voleva dire che in classe ero attento. A parte che io avevo una nonna che è stata la mia prima maestra elementare, e dunque facevo di tutto. Materna. Materna. Lei mi mandava dietro la lavagna, Marchino, vai dietro la lavagna, perché io sono sempre stato piccolo, e io dietro la lavagna gli facevo dei disegnini poco, così che lei, quando girava la lavagna, si ritrovava davanti, quello che non si doveva trovare, al che non mi mandò più dietro la lavagna, ma mi mandava direttamente fuori. E io gli aprivo la porta, in Fiorentino gli dicevo tanto tu sei la mia nonna, e richiudevo. Dunque ero un impunito in classe. Però devo dire che ho sempre avuto il piacere di imparare, cioè mi piaceva andare a scuola, però mi piaceva andarci a modo mio. Ho sempre cercato di ironizzare, di scherzare, ho sempre avuto... Non so se hai visto il film Amici miei. Certo. Ecco, lo spirito mio è sempre stato quello. La frase più bella che ho sentito dire in giro, gli angeli volano perché si sanno prendere alla leggera. E mi sono sempre preso alla leggera, e forse anche un po' troppo tutto il resto, ho sempre preso alla leggera. E il mio spirito di andare in classe era quello di divertirmi, imparare ma divertirmi con i miei compagni. Dunque l'infanzia è stata un po' questa, sperimentare divertendosi. Sei arrivato fino alla maturità? Sono arrivato fino alla maturità, l'ho passata studiando mai. Sono mancato tipo 200 giorni su 300. E firmavi tu? Non c'ero mai. Non lo sapevo di tu? No, non c'era. All'epoca mia non c'era la firma che ho fatto le scuole. E non chiamavano a casa? Sì, alla sesta, settima volta chiamavano a casa. E come ti destreggiavi quando succedeva? Beh, allora, mia madre mi aspettava o con lo zoccolo, o con la ciabatta, o col mestolo di legno dietro la porta. Poi la frase era stasera lo dico tu babbo. Allora mio papà, mio babbo, entrava in camera con la faccia minacciosa, però si vede che non ce la faceva proprio, perché ero il primo, un po' c'aveva il debole, per me mi faceva non si fanno queste cose. Ce l'hai i soldi per uscire? No, babbo, tieni, ciao. E andava via. Capito? Dunque era una passeggiata di salute. Non ho mai... Solo una volta lo feci arrabbiare mio papà. Mio papà era molto buono, ma molto spartano nell'educazione. Da ragazzino, quando avevo 5-6 anni, avevo paura di dormire da solo. Avevo paura del buio. La notte rompevo le balle. Mio papà era uno che faceva i turni, faceva due lavori, dunque aveva bisogno di dormire. Alla quinta notte, che non lo facevo dormire, mi prese per una manina, mi fece fare il giro delle stanze di casa, aprì la prima stanza, ne avevo sei, c'è nessuno qui? No! Pum! Una pizza dietro la famosa pappina. Mi fece fare due volte il giro di casa, dodici pappine, da quel giorno gli smisi di avere paura del buio. Diciamo, questa è stata l'unica volta in cui, forse esasperato dal fatto che non lo facevo dormire, alzò una mano verso di me. Però per il resto è sempre stato un santo. E a proposito di mani e di santo, coccole come hai rimesso? No, male. Male perché non le ho mai sopportate. In famiglia mia non siamo ormai stati molto... Fisici. Sì, fisici, abbracci, baci. Via, vado, ciao, capito? Era quasi un... Non so come spiegartelo, guarda, è una roba brutta, perché a pensarci adesso, invece con mio figlio sono l'opposto. Mio figlio... E il tuo peluche te lo spupazzi. Sì, da morire. Forse perché un po' ne ho sofferto, ma proprio non mi andava da piccolino di essere spupazzato né di spupazzare. E invece i tuoi fratelli erano coccolati o uguali? No, no, abbastanza. Cioè in casa si comunicava a parole, ma non tanto con il contatto fisico. Sì, esatto. Non ricordo di aver abbracciato mio padre o mio fratello. Visto che ti conoscono tutti come un grande talentuoso della radio, ma poi ci arriviamo, è un birichino che ha avuto i vizi. Dimmi quando cominciano i primi vizi, quando le fai le prime calzate. Allora, adesso ti dirò una roba che suonerà. Allora, la metà delle persone faranno no, l'altra metà diranno sta raccontando cagata. Io non sono mai stato un vizioso, non sono mai stato un giocatore compulsivo o perlomeno non sono nato così. Diciamo che ho dovuto dimostrare di esserlo dopo per difendermi da cose molto più gravi. Dunque da ragazzino non ero un vizioso, cioè non lo sono mai stato di fatto. Mi sono sempre divertito, sì, ho fatto mille cagate in vita mia, ma diciamo quel vizio lì non ce l'ho mai avuto. È dovuto nascere dopo per nascondere cose un po' più gravi. A che età? È successo tutto nel 95. Quindi 36 anni? Avevo 36 anni, 35-36 anni. A quell'età lì mi sono dovuto inventare, sono stato forse uno dei più bravi autori d'Italia, perché ho convinto tutta Italia, forse tutta Europa, che io ero un giocatore incallito e che mi ero ridotto in quel modo lì a causa del gioco. Ma non è stato per quello. Diciamo, quella è stata una copertura che ho dovuto usare per non incorrere in guai peggiori, ma molto peggiori. Ma che mi puoi raccontare? No, perché purtroppo non credo che siano cose che ancora si possono raccontare. Mi riservo di farlo, lo sai perché? Ma non per tanto per riabilitarmi, perché vedi, tutto quello che mi è successo è colpa mia, anche se non sono stato un giocatore compulsivo, però il tutto è partito da un errore. Però qui si va adesso a toccare il mondo che sto vivendo adesso. Io non credo negli errori e non credo nei meriti. Secondo me ti accade quello che ti deve accadere. Perché hai fatto un figlio a 61 anni? Perché doveva venire a 61 anni? Perché hai fatto sta cosa qua? Perché dovevo fare sta cosa qua? perché dovevo arrivare al punto in cui sono adesso. Perché io mi sono reso conto qualche anno fa, un po' prima che nascesse mio figlio, che io in realtà dalla vita cercavo solo una cosa. Io ho sempre avuto la consapevolezza, ma questo fin da piccolo, che noi non siamo nati per fare sta vita qua. Noi siamo nati per scopi molto più alti. Solo che noi, purtroppo, dal momento in cui nasciamo, nasciamo in mezzo a un sacco di condizionamenti e questi condizionamenti ti portano ad essere l'essere umano che sei che dimentica lo scopo alto per cui è venuto su questo mondo. E sto iniziando a intuire che tutto ciò che ti capita non è un errore, cioè è un percorso che tu devi fare. Non esistono persone che ti fanno del male, ma sei tu che permetti a delle persone di farti del male perché ne hai bisogno per fare quel tipo di percorso. Tu dici che tutto quello che capita deve capitare. Io invece ho una teoria diversa che non è per forza di cose giuste. Diciamo che quello che tendenzialmente mi guida, io sono molto convinto della legge dell'attrazione, quindi se sei una persona che non teme, non ha paura, vede positivo, attrai la positività. Dal tuo umore attrai anche il bello da parte degli altri. Se sei molto negativo le persone tengono a distanza e verranno da te ti circonderanno delle situazioni che ti infosseranno ancora di più. Io questo ne sono molto convinto su di me, ma non sono sicuro che sia la teoria giusta. No, è giusta, però ti spiego, non la devi pensare. Io non la penso, la sento. Ecco, la devi avvertire. Se l'avverti vuol dire che ti deve capitare, non la devi costruire perché nel momento in cui la costruisci non è vera. Guarda, io mi sono accorto che l'unico modo per essere felici è vivere. Punto. Essere. Cioè, io sono felice anche quando mi trovo a sormontare degli ostacoli che mi sembrano immensi perché so che comunque lo faccio perché sono vivo, perché esisto, perché sono qua e sono felice anche in quel momento lì. Difficilmente sentirai che io mi lamento di qualcosa perché credo veramente, fermamente in quello che ho scoperto nel corso del tempo, cioè che la vera felicità è forse il punto di arrivo perché prima o poi ci arriverò, io sono sicuro, come ero sicuro che avrei fatto la radio a Milano, come ero sicuro che avrei fatto la tv con Fiorello, che avrei raggiunto un certo grado di notorietà, avrei raggiunto un certo grado di agiatezza finanziaria, ero sicuro che avrei avuto un figlio, cioè di tutto ciò che mi è capitato io ne sono sempre stato certo, sicuro, dunque sono sicuro che arriverò a quel punto di illuminazione che cerco, però credimi è vero quello che dici tu perché se tu adotti un comportamento di un certo tipo attrai situazioni di un certo tipo, però non lo devi volere, lo devi sentire, devi essere soprattutto onesto con te stesso, se tu sei onesto con te stesso poi sei onesto col mondo, io pensavo ad essere un pauroso e invece mi sono accorto che sono una delle persone che ha più coraggio al mondo, sarei capace di morire per il mio figlio ma domani, sarei capace di morire per difendere una persona, delle volte ho fatto delle cose dentro di me dicevo ma sei scemo, cioè che stai facendo, ma le ho fatte perché mi sembrava giusto dunque sono riuscito a trovare il coraggio che pensavo di non avere per trovarlo però mi sono dovuto perdere, ti parlo di buche scavate con la pistola dietro la testa, di revolverate che ho preso dietro, di coltellate, di nascondermi da personaggi che mi potevano fare veramente male e di aver fatto cose di cui vergognarsi davvero, dunque il fondo l'ho toccato ma io non ero attratto da questo, mi ci sono trovato, mi ci sono trovato purtroppo per delle scelte scelerate, per paura, sempre per paura. Ma ti faccio una domanda, la scelta scelerata di trovarti in una situazione complicata e quindi di dover forse mentire per reggere il ruolo, quello è una conseguenza ma era una strada che avevi preso per arrivare a uno scopo più alto, qual era lo scopo più alto? No, non lo sapevo allora, allora non lo sapevo. Però dalle cose che ho letto di te mi era sembrato di aver capito che tu volessi essere qualcuno anche nei momenti della radio dove eri ricco e famoso, volevi essere ancora di più. Il primo errore che ho fatto quando sono arrivato a Milano, allora entro e vedo Giovanotti che intervista Bon Jovi, cioè io venivo da Radio Fantasy Firenze, Lady Radio, mi sono cagato addosso e per due mesi non ho aperto bocca. Mi ricordo quando arriva io c'erano Amadeus, c'era Fiorello, c'era Tony Severo, Giovanotti, Linus che avevano tutti all'epoca ancora non c'erano i telefonini perché era la fine dell'89. Questi avevano il cerca persone, la macchina figa. Io ho associato i soldi alla bravura, cioè più soldi più bravo e quello è stato il primo errore della mia vita. Dunque, non sentendomi bravo ma tutt'oggi non mi sento bravo. Quando ancora trovo gente che mi dice tu alla radio sei bravo io dico no, non mi sono mai sentito bravo, mi sono sentito me stesso. I veri fenomeni della radio sono i vari Fausto Terenzi, i vari Leopardo, Leonardo è stato il più grande talento radiofonico della radio, quelli sono talenti. Io sono un figlio di quella generazione ma non mi sono neanche mai avvicinato lontanamente. Dunque, avendo questo scarso, non scarso, realista, questo giudizio realista di me pensavo ottenendo più soldi butto fumo in faccia alla gente e gli faccio credere di essere bravo e lì ho cercato di ottenerli prima col lavoro ci sono riuscito ma ne volevo avere di più per essere più bravo, più soldi, più status symbol, una bella casa, una bella macchina perché purtroppo poi in quegli anni negli anni 90 l'epoca dell'edonismo reganiano quasi cioè tu vedevi le persone che ti valutavano esclusivamente da come ti vedevano l'orologio figo molto italiano come cliché però sì era così allora io volevo dimostrare agli altri che ero bravo con i mezzi capito? Non reputandomi abbastanza bravo io volevo dire guarda sì non sarò così però ho successo e quello è stato il primo errore è da lì che hai fatto quel passo in più sì quel passo in più ci ritorniamo dopo adesso torniamo indietro hai 18 anni ti sei diplomato hai fatto le tue stronzate ce n'è una grande grande che ti ricordi da adolescente dove hai rischiato di brutto? Le ho fatte dopo 18 anni 17 anni ero un paraculo cioè le facevo fare agli altri ok non prendevi grandi rischi non prendevo grandi rischi mi divertivo ma stavo a un palmo dal disastro sempre una volta rubai un autoradio questo lo devo dire una volta ma anche lì per gioco non per soldi però insomma non ho mai fatto niente di grave di trasgressivo dopo ho fatto i disastri veri 18 anni chi volevi essere in quel momento nella vita? Io volevo essere il più grande personaggio radiofonico perché chi ti ha illuminato nella radio per darti questa fotta di diventarlo? Perché io prima allora io partivo quando eravamo ragazzini 17 16 andavamo piazzale Michelangelo a Fiesole che erano i punti più alti della città con una vecchia alfa che aveva l'antenna frusta popoli che era quell'antenna che quando partivi toglievi quella del CB no quella proprio della macchina ma era altissima che c'è tutto gli evipanni alla signora Stesi cioè nel senso così solo perché captavamo in AM Radio Luxemburg dove c'erano queste voci di Bob Stewart Benny Brown queste voci americane questa magia della radio e noi stavamo lì perché loro trasmettevano da mezzanotte in lingua inglese fino alle 6 del mattino noi facevamo le 4 le 5 ad ascoltare queste voci la tv la vedevi era lì cioè non c'era niente di magico la radio sentivi ti immaginavi perché erano i tempi dove la cosa più pop era il carosello non c'era ancora la televisione di Berlusconi un po' più prorompente no 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 c'era il primo il secondo e non c'erano manco le tre la prima tv che arrivò fu Telemonte Carlo in maniera sperimentale però ecco sentivi queste voci e te le immaginavi chissà come sono come vivono che gente è e io volevo essere quello lì dissi devo diventare quello nasce tutto lì nasce tutto lì però a Firenze c'erano delle radio che sinceramente Milano era un'era avanti ok quando nacque Radio Milano International che iniziai a sentire le cassette perché ancora non arrivava di Leonardo disse ma io gioco in un altro campionato cioè lui gioca in Serie A fa la Champions League io faccio neanche la Serie C faccio la promozione cioè io voglio diventare quelli voglio andare là e nella mia testa mi si è sempre fissata l'idea che Milano fosse la capitale del mondo io adoravo Milano perché adoravo la radio e perché poi nacque 105 le prime cassette di Gianni Riso sentivo mi arrivavano tutte cassette di un mio amico che avevo conosciuto da militare che era di Milano me le spediva dove l'hai fatto il militare? ero nella missilistica a Mestre Venezia anche lì mi sono divertito perché io lì lavoravo a Radiobase San Marco Club a Venezia in cambio della cena perché in caserma si mangiava da schifo e io trasmettevo la sera dalle 9 alle 10 la tua prima esperienza? no la prima esperienza viene nel 77 stavo facendo l'esame di Stato facevo limitazioni dei professori io in classe disegnavo le vignette prendevo per il culo tutti facevo limitazioni dei professori allora un mio compagno di classe che aveva il papà che aveva aperto una delle prime radio libere di Firenze mi disse guarda ci serve un esperto di rock io non capivo una mazza di rock non capivo una mazza di niente però andai lì videro che ero bravo a dire cagate mi misero la mattina presto ebbe un bel successo sempre nell'ambito toscano si chiamava Radio Sesto International io scimmiottavo quelli che sentivo là non ne avevo assolutamente nella stoffa nei mezzi però poi invece scoprì che facendo il deficiente quella era la mia dimensione che non potevo mai essere i Leopardo i Bobby Brown perché non avevo prima il timbro vocale loro e poi perché io ero più portato per calzeggiare allora mi misi a fare lo scemo e da lì nacque diciamo il primo successo e da lì nacque anche Radio DJ perché Claudio passando da Firenze mi sentì a LED radio mi chiamò e dopo 3-4 mesi era a Milano insomma quindi lui passava da lì si sintonizza Claudio non è uno che ascolta la radio guida un quarto d'ora venti minuti io mi ricordo aveva il telecomando già all'epoca dell'autoradio mentre guidava cambia parla uno sente parte il disco cambia parla uno sente cioè lui cambia ascoltava più le persone che parlavano che i pezzi assolutamente pubblicità stacchetti come partiva il disco lui cambiava si vede che in uno di questi escursus mi ha beccato e lo colpì una roba banale però nessuno la faceva del tipo io facevo un programma di telefonate in diretta mi chiamavano le persone e io le trattavo non male ma come ti chiami Giovanni chi se ne frega senti mi sono rotto le balle passami un'altra telefonata cioè le mie telefonate erano così lo colpì questo modo di fare un po' da fancazzista disse secondo me questo funziona mi disse mandami una cassetta gliene mandai 30 gliene mandai facevo 3 ore al giorno gliene mandai 10 giorni di trasmissione guadagnavi i soldi nella tua radio fiorentina sì però ti spiego io lasciai un lavoro dove guadagnavo 3 milioni al mese nel 1979 80 guadagnavo 3 milioni al mese facendo il rappresentante dei prodotti per parrucchiere lavoravo 3 giorni a settimana e vendevo dalla permanente al lavaggio intero e poi avevi a che fare con tutte donne giovani dunque io guadagnavo un pacco di soldi e poi mi divertivo veramente alla grande lasciai quel lavoro per guadagnare 600 mila lire al mese a radio fantasy però perché era il tuo sogno era il mio divertimento e quando molli il lavoro da 3 milioni per andare a 600 mila lire a seguire il tuo sogno i tuoi cosa pensano della radio cioè per loro era un lavoro mio papà mi voleva in banca mia mamma voleva continuarsi a studiare dunque per loro mio papà quando tornava continuamente scuoteva la testa vaia 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 invece di fare bisc ero trovato un lavoro per bene era un classico e io dovevo sopportare sta roba qua però sapevo che sarei arrivato a Milano perché il mio sogno era Milano quindi Cecchetto ti becca e ti becca anche nel momento giusto dove carpisce una personalità che gli piace mandi 30 cassette li mandi 10 puntate da terrore vai a Milano quanti anni hai? 30 anni nel 90 e per 10 anni che fai? per 10 anni faccio mille lavori faccio l'opera del Duomo di Firenze faccio il rappresentante che è stato l'ultimo che ho fatto poi ho fatto l'impiegato mi ho rovesciato una schiavania e sono venuto via dopo una quindicina di giorni ho portato i tortellini col motorino erano più quelli che perdevo per strada perché a Firenze ci sono i San Pietrini dunque come a Roma dunque ho fatto mille lavori però perché cambiavi? perché ti mandavano via o ti rompevi le banche? non riuscivi a essere costante? mi facevo mandare via ecco la stessa tecnica che adottavo con le donne cioè il modo che ti mandassero loro a quel paese esatto perché non avevi il coraggio di dirlo tu bravo io sono stato un pauroso fino a 32-33 anni sono sempre stato paurosissimo non ho mai fatto a botta perché avevo paura? dopo ho fatto pure i combattimenti però adesso a 63 anni alla Cazzarella a Roma fanno i combattimenti clandestini mi sta balenando il mio ragazzo mi ha già detto non torni più a casa però mi verrebbe voglia perché cioè lo considero uno dei miei lati ancora oscuri che ho una dose di aggressività che ogni tanto mi esce fuori cioè non sono capace di litigare per odio però per sport ti prendo ammazzate cioè capito come come fai a controllarti quando succede quel momento? eh devo stare attento perché mi cala la notte cioè non litigo mai per strada ad un incrocio ma se rischia mio figlio invece che difenderlo ti ammazzo capito dov'è la differenza? cioè mi cala proprio la notte mi cala però per dirti la paura mi ha accompagnato fino ai 34 35 anni però c'è un turning point quando succede che sconfiggi una paura vuol dire che succede una cosa che ti fa vedere oltre cosa è successo? è successo un'illuminazione dal cielo mi stavano facendo scavare una buca con dietro un cannone il famoso periodo buio il famoso periodo buio io ero in questa buca stavo scavando e questi mi volevano tirare per una storia un po' complicata non c'entrano niente i debiti in quel momento sono uscito un po' dal corpo mi sono visto dall'alto era come se io vedessi un film e non capitasse a me ho sentito una calma improvvisa innaturale cioè questi mi avrebbero tirato a distanza probabilmente eri bendato invece vedevi? no 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 dovevo scavare e non li sentivo parlare perché quando tu comunque mantieni un contatto con la persona che ti fa una roba del genere hai qualche chance di poterci ragionare e poterlo indurre a ripensarci ma quando questi stanno in silenzio come tu apri la bocca ti dicono scava vuol dire che è finita però queste cose succedono o se tocchi la famiglia di qualcuno sei dei debiti no 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 se hai dei debiti non ti fanno vivere lì fu una roba però se continui a non pagare a un certo punto ti devono far pagare addosso sì ma non così lo fanno con altri sistemi questo fu perché era considerato diciamo che non so se vado in galera a raccontarla cioè nel senso è una roba che è successa nel 1995 94 direi che è prescritta penso sia prescritta diciamo in quel periodo lì io stavo dando il 20% al mese e avevo quasi un miliardo di debiti erano due mesi non pagavo dovevo dare 200 milioni a della gente per cui quando ti dicono siamo a posto così vuol dire che è arrivato il momento che non li vogliono più ma non tanto per i soldi per lo sgarro allora li dovevo trovare mi chiama un tizio e mi dice che aveva una tabaccheria vicino a dove stavo e mi dice ho 2 miliardi di marche da bollo rubate se tu le piazzi per te c'è un 30% faccio due rapidi calcoli 300 milioni ne avevo bisogno di 200 contatto dopo una settimana che giro perché in quel periodo purtroppo ero dentro l'ambiente della malavita riesco a contattare forse la persona più importante ma anche più pericolosa di Milano il mio amico mi dice questo è disposto a vederle porta un campione lui questo tizio che già a vederlo arrivò con due armati le guarda dice le faccio analizzare se tutto va bene le prendo io mi chiama dopo 3 ore e mi dice va bene l'affare si fa vi farò sapere io quando tramite l'amico comune passano due giorni non lo sento al terzo giorno l'amico comune mi fa Marco vieni subito al bar perché è successo un macello arrivo al bar e lì ero ancora nella fase della paura arrivo al bar tremando perché vedo il mio amico completamente devastato vedo questo così che come mi vede mi fa vieni qua e mi lascia andare una cinquina e mi fa sono false le marche da bollo cioè adesso lo viene a spiegare alle persone che le volevano comprare mi portano in un campo dove ancora stavano costruendo e mi dicono scava cioè il loro obiettivo era quello di levarmi dalla circolazione perché gli avevo mancato di rispetto cercando di fotterli e lì mi è venuta l'illuminazione mentre scavo dico ma scusa un attimo se ti avessi voluto fottere ti avrei dato un campione di marche vere e poi ti avrei rifilato le false che senso ha rifilarti le false subito passano cinque minuti interminabili in cui dico ora mi sparano da dietro e posa la pala e sale in macchina adesso mi dice io gli dico guarda no perché prima ci devo andare io ero già passato nella modalità non ho più paura di niente vado da questo gli devasto il negozio questo non dice una parola il nero mi dice adesso mi dice il nome gli dico il nome e mi fa questo scemo lavora per me è andato lì gli ha messo un milione di tasse al giorno per quello che aveva fatto perché lui ha capito che io che all'epoca ero vabbè avevo 34 35 anni ma era un pischello rispetto a lui lui avrebbe fatto ammazzare una persona per una zanzata del genere allora la rabbia sua era sia che era stato fottuto da uno dei suoi sia che aveva messo a rischio la vita di una persona perché guarda è comunque un codice cioè se tu sei innocente non senti niente e te la rischi perché un coglione ha voluto metterti nei guai lo sanno riconoscere e lo puniscono poi c'è stata la giustizia divina questo ha iniziato per rientrare diciamo delle spese perché doveva pagare un milione all'oro non le aveva vendute ha iniziato a venderle a dettaglio le hanno messe su qualche permesso di soggiorno alla questura un emigrato andò con il permesso di soggiorno e gli disse chi te l'ha data questa marca questa tabaccheria qua sono andati là e li hanno arrestati tutti tu nel frattempo tutti i soldi che guadagnavi in radio dove hai finiti? li ho finiti li ho finiti tutti in una bocca sola ti faccio due domande ti drogavi? no io sono contrario qualche cannetta all'inizio mai usato io sono contrario in una maniera più totale quindi non c'entra niente con zero non hai mai fatto le follie perché perdevi il controllo da quel punto di vista no proprio io la droga sono sempre stato lontano anche da chi si drogava e i tuoi genitori quando eri in quel periodo non vent'anni dopo a 35-36 non sapevano niente 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 zero non gli ho mai fatto gli sarebbe venuto un infarto sì mio papà è la persona più lontana dal mondo da questo genere di cose torno un secondo indietro arrivi a Milano sì hai mandato le 10 cassette a cecchetto lui ti dice vieni a lavorare per me vieni a lavorare ti diamo 5 milioni al mese subito un bel contatto anni 90? 1990 ti diamo la casa dove c'era stato Sandy Martin dove ci stava anche Fiorello era la casa diciamo aziendale avevo tutto per essere felice mi blocco mi blocco perché io dico io non valgo 5 milioni io sono qui a Milano ma non sono bravo per stare a Milano io vengo da un altro mondo non sarò mai loro mi blocco faccio provini su provini perché Claudio la volta che ti prende non ti manda in onda andavi in uno studio di licenziazioni simulavi la diretta poi lui sentiva e ti diceva voleva essere sicuro sì niente c'era un giovane Nicola Savino che era il mio tecnico che quando registrava si girava dall'altra parte come per dire ma questo dove l'hanno preso che ero bloccato completamente bloccato ma perché cercavi di imitare di emulare i grandi o perché quella tua personalità fiorentina non la no no io pensavo qui a Milano non posso far come faccio a Firenze devo dargli qualcosa in più di diverso cercavo di emulare e loro volevano quella roba lì esatto è certo poi il signor Valerio Gallorini che era il braccio destro di Claudio Cecchetto un giorno mi fa vieni a cena a casa mia era a giugno io ero qui da aprile e Claudio aveva già pronto il biglietto per rimandarmi a Firenze mi fa imbenzinare bene e poi mi fa ma tu non hai capito un cazzo tu devi essere quello di Firenze quello che manda a quel paese le persone Claudio vuole questo da te non vuole che tu sia un'altra persona devi fare quello ma sei sicuro quello devi fare è quello che manca qui adesso se tu fai quello hai vinto e allora da quel giorno lì prendo mi libero faccio finta di essere a Lady Radio Firenze e il 7-7 1990 arriva la convocazione alle 7 del mattino vado in onda con il club della colazione si chiamava è stato il tuo primo programma il primo programma mi ricordo il 7 di luglio alle 7 vado in onda e Claudio non lo senti e non lo vedi e non ti dice niente Danny dice va bene però non ti danno mai la soddisfazione Claudio dice guarda non ti sentirà mai la mattina perché lui esce fa tardi la sera registra e ti sente magari quando si sveglia alle 3 e 4 del pomeriggio non sapevo come andavo avevo la consapevolezza di essere quello che ero a Firenze dunque se aveva ragione Valerio dovevo essere a posto però sai finché non vedi Claudio era un'entità non lo vedevi mai se lo vedevi ti marmorizzavi diventavi un Cristo di legno della selva Val Gardena cioè rimanevi marmorizzato cioè erano tutti in soggezione tutti lui e Franchino che era il suo braccio destro la buonanima eh sì la buonanima la buonanima lui è stato un grande con me morale della favola è un giorno arrivo alle 6 e un quarto in radio e mi vedo Claudio che sta leggendo il giornale nel posto dove dovevo essere io cosa mi viene in mente da pensare vai in onda lui perché io faccio cagare è finita vieni vieni Claudio era sempre di poche parole ho sentito va bene guarda queste sono cose che ho scritto che non devi più dire che non devi più fare però per il resto va bene e mi manda una cosa di cose i comandamenti però da lì io mi alzai levitai un metro da terra eh sì Claudio ce l'ho fatta ti dice va bene e da lì divento cioè divento penso ad essere diventato diciamo uno che a Claudio cecchetto andava bene dunque era il più grosso complimento il più grosso merito che tu potessi avere e poi lui era il deus ex macchina in quegli anni era la radio più figa faceva già televisione faceva il festival bar faceva tutto aveva fatto Sanremo quindi per te voglia era la benedizione era il sogno cecchetto da ragazzino mi chiamava il cecchetto a me perché volevo fare la radio dunque per me era cioè il massimo dei massimi e poi che succede da quel momento da lì succede che Claudio secondo me fa un errore mi sopravvaluta dice abbiamo il nuovo Geriscotti per lui io dovevo essere il nuovo Geriscotti cosa voleva dire per lui Geriscotti qual era il sottotitolo di Geriscotti il comico della radio che può fare anche tv che avrà successo nella vita perché è spigliato è divertente è simpatico quello era quindi molto trasversale molto trasversale io vado avanti faccio il programma un giorno arriva con tizio improponibile scalzo con i pantaloni a coste di velluto bianco e un maglione era fino agosto Fiorello la prima cosa mi fa Fiorello fa minchia assomiglia a Stallone subito io no ti ringrazio però senti io dovrei fare un programma con te perché Claudio mi disse guarda c'è uno che è ingestibile viene dai villaggi è uno che sta ancora scalzo cioè cammina in città ad agosto scalzo perché insomma c'ha le ciabatte ma le lascia dappertutto cioè è ingestibile per me è un genio però ci ha provato Tony Severo ma non ci è riuscito ci ha provato un po' Amadeus ma anche lui non ci è riuscito serve uno che gli fa da balia e che gli scrive anche qualcosa per cui magari gli dà un minimo di senso autoriale te la senti? proviamo allora io faccio la mattina dalle 7 alle 10 alle 10 mi metto a scrivere fino a mezzogiorno e mezza a mezzogiorno e mezza arriva Fiorello che si era alzato da un quarto d'ora perché aveva fatto l'Hollywood fino alle 7 del mattino allora lì vivevamo nel codominio era Disneyland ah te l'avate tutti tra di voi? sì eravamo quattro abitanti perché poi erano tutti uffici piano terra un garage riadattato a loft Fiorello in cima io terzo piano sulla destra a Franchino accanto a uno spacciatore che poi hanno arrestato eravamo gli unici quattro abitanti in quel condominio capitava di tutto cioè Fiorello la sera usciva dall'Hollywood si portava a casa chi trovava e la mattina la parte più comica era vedere Franchino che complimenti quella di ieri sera veramente bellissima cavolo aveva tre pange l'ho vista devi bere di meno Fiorello cioè capitava di tutto in quel periodo con Fiorello dove va tutto bene quindi prendi i tuoi soldi hai trovato la tua identità in radio sì Fiorello poi era un genio c'erano già dei vizi avevi dei demoni o ancora andava tutto bene non mi bastava stavo iniziando a vedere che c'era un altro mondo dove si potevano fare tanti soldi in quel periodo lì io spesso facevo delle feste con obbi delle persone che mi introdussero in un mondo legalissimo o perlomeno io pensavo fosse legale cioè già il tuo primo anno di Milano succedono queste cose no no dopo il terzo anno per i primi due tre anni è andato tutto bene terzo anno succede questo mi si insinano questi personaggi che nel giro di un anno o due mi fanno guadagnare delle cifre esorbitanti investendo io penso aver trovato il Nirvana perché anche se non sono molto bravo alla radio però ho trovato un sistema per svoltare dunque ho raggiunto il mio status sono io c'è quei soldi di cui parli investivi ma avevi un ritorno sull'investimento immediato quindi raddoppiati due mesi tre mesi quattro mesi no ho anche triplicato delle volte quindi li toccavi con mano sì vengo a scoprire tramite un meccanismo che non ti posso purtroppo dire queste persone vengono arrestate e scopro che tutto è legale non posso recuperare i soldi e mi devo trovare una scusa perché nel giro di breve ci sarà un'indagine per vedere chi ha dato tanti soldi a queste persone ok e in che modo e allora scatta il genio della lampada come posso fare come non posso fare qualche volta avevo giocato a cavalli ma poca roba allora droga non se ne parla perché va in galera sono un giocatore cioè tu dovevi giustificare uscite di denaro dal tuo conto mi stai dicendo sì era questo ma cifre molto importanti tipo dunque ho guadagnato più di un miliardo e mezzo e ce ne ho rimessi due perché tu ogni volta che prendevi soldi ogni due tre mesi come dicevi tu poi reinvestivi sempre tutto no non tutto una parte fino a che all'ultima mi chiedono di investire tutto perché cercano una cifra importante si rompe il meccanismo vengono a galla delle cose io mi trovo sotto di tutti i soldi mi trovo a zero con un tenore di vita altissimo con una corte di miracoli che avevo dietro che mantenevo e ce ne avevo tanti credimi che mantenevo non potevo dire niente non potevo dire come li ho persi e soprattutto dovevo dare delle giustificazioni agli inquirenti diciamo ma tu dovevi dei soldi a qualcuno in quel periodo no zero tu non avevi debiti non avevi persi i tuoi soldi sì e quindi i primi due tre anni va tutto tranquillo ma a un certo punto a una delle feste che tu davi incontro delle persone incontri gente che ti propongono cosa degli affari immobiliari dove si guadagnava molto nel giro di brevissimo tempo e io dico va bene forse in maniera più incauta ma sai avevo trentatré anni quanto investi la prima volta? cento milioni mi rientrano cento quasi quaranta ok nel giro di brevissimo tempo e io continuo ogni due tre quattro mesi mi propongono degli affari me li documentano con il mio avvocato vado lì tutte le garanzie del caso lui mi dice questa la farei questa un po' rischiosa questa facciamola ma si tratta sempre esclusivamente di muoversi nell'ambito legale cioè nel senso si parla solo di affari di tipo immobiliare immobiliare ok un giorno dopo quasi due anni dove ne avevi fatti diversi ma tanti soldi avevo fatto diversi investimenti quindi diversi guadagni diversi guadagni mi dicono guarda c'è da investire un po' di più stiamo cercando una cifra molto importante e stiamo girando un po' diciamo tutte le persone che abbiamo coinvolto in questi anni nei nostri affari per fare una cordata a trovare una cifra importante che vogliamo realizzare un grosso complesso di case di lusso abbiamo già gli acquirenti dunque è un affare sicuro ci vorrà un po' di più per avere inviato i soldi sei mesi un anno però il guadagno è molto più alto io mi consulto con il mio avvocato barra commercialista che mi dice si può fare perché questi in due anni ti hanno sempre fatto guadagnare avevano mille modi per babbarti sono persone serie lui fa uno screening di queste società e vede che sono società che hanno degli immobili che hanno delle attrezzature per cui un domani ti potevi anche rivalere su questo faccio il grande passo faccio un all-in anche se non ero un giocatore compulsivo però questa è una mossa dal giocatore certo anche se si tratta di affari immobiliari è comunque una mossa di azzardo non è gioco ma comunque tu rischi tanti soldi quanto vale quello all-in? quello all-in vale quasi due miliardi tutto quello che avevi? quasi faccio l'all-in dopo due mesi vengo a scoprire che queste persone sono state arrestate perché dietro si nascondevano cose che non sapevo all'origine che non potevo neanche presumere l'unica cosa ti posso dire è che non si tratta di droga e tu in quel momento quali sono i rischi che hai di perdere i soldi? non solo perché indagheranno su chi ha dato dei soldi a queste persone ok fra tutte le persone che hanno avuto delle grosse uscite dai conti correnti si indagherà per capire che fino hanno fatto questi soldi se tu non avevi una pezza d'appoggio più che valida mi stai dicendo che da lì ti inventi la storia del giocatore no ci penso a lungo ci penso un mese come poter dire a loro che avevo quel giro di soldi un mese ci penso poi dico al mio commercialista che l'unica cosa è il giocatore lui mi dice sarà un po' dura dire che tu hai giocato due miliardi però insomma vediamo ma come dimostravi di essere un giocatore? mandavo due persone quasi ogni giorno a Campione e a San Bersan a prendere i talloncini d'ingresso ma non c'era il nome congnuno? no all'epoca no non erano nominali poi ho oliato delle persone che erano dentro il mondo del gioco per dire che se un domani qualcuno si fosse voluto informare sul fatto che ero un giocatore di dire di sì che era un grosso giocatore compulsivo morale della favola diciamo che riesco bene e male a infarinarla ma non a convincere del tutto quando dici riesco a infarinarla a chi? a chi mi interrogava ok però tu in quel momento nella tua testa sai che hai perso tutti i tuoi soldi aspetta non solo in quel momento lì avevo un tenore che si era alzato in maniera esponenziale avevo un tenore perché guadagnavi così tanto che facevi la vita da ricco sì esatto mi fai degli esempi? una sera uscendo potevo spendere 5 milioni andando in giro nei locali pagando tutto io facendo scene per 20-30 persone compravo una macchina presi il primo modello della Mercedes che si scappellava in maniera elettrica insomma spendevo spandevo offrivo prestavo soldi amici in difficoltà perché ne ho dati tanti questo è stato un altro mio purtroppo difetto insomma morale della favola per dimostrare che era vero ho dovuto iniziare a giocare davvero poi se no non reggeva quando io ero più giovane e andavo al casino e guadagnavo tanto purtroppo e quindi il mio livello di gioco ovviamente era proporzionato anzi molto spesso era al di sopra di quello che guadagnavo c'era la sbornia del giorno dopo cioè quando tornavi a casa a chiusura del casino dicevi non lo faccio mai più e la mattina dopo dicevi smetto domani però la mattina dopo eri di cattivo umore affrontare la tua giornata perché tu dovevi affrontare il tuo lavoro perché ti faceva ovviamente guadagnare ma tu pensavi solo ad andare a recuperare e tornare lì e volevo capire con la radio dove tu a Firenze eri il preso bene che faceva in freestyle comunque avevi il tuo stato d'animo ma da comico come dicevi tu prima quella è stata la mia forza riuscivi a farlo il giorno dopo non ti toccava emotivamente? perché io sono andato avanti è solo perché riuscivo a scollegare il cervello e nel momento in cui accendevo il microfono io mi divertivo una volta mentre io ero in onda sali su un pazzo scriteriato che frequentava quel mondo là che voleva dei soldi da me allora mentre io sono in onda vedo passare questo che è l'ultima persona che tu ti immagini di vedere in quell'ambiente lì cioè fa parte di un altro mondo ti vedi passare questo che va nell'ufficio di Linus io dico sogno son desto non faccio uso di sostanze ma è un'allucinazione molo la cuffia questo completamente ubriaco era anche bello grosso con i piedi sul tavolo dice adesso mi devi dare i soldi in quel momento lì mi è scattato il famoso allora lo prendo gli do due cartoni lo prendo per un piede lo trascino per le scale Radio di G era al quinto piano io a calci gli faccio fare tutte le scale fino in fondo questo si rialza perché era bello grosso prova a reagire e io continuo a dargli perché c'avevo proprio il veleno la signora davanti vede che io fuori da via Massena prendo a cartoni questo chiama la polizia pensando io aggredisca lui fortunatamente la polizia sapeva che questo era un personaggio del genere poi si convincono che io mi sono difeso lo portano via però questo era il clima di quel periodo però ho una domanda tu prima mi hai detto che non avevi debiti perché comunque hai giocato i tuoi soldi cioè hai giocato hai perso hai rischiato i tuoi soldi però questo è durato pochissimo perché io continuo a mantenere un tenore di vita che non potevo permettermi ok ho iniziato a giocare davvero allora ho iniziato a chiedere prestiti a chi non dovevo e gli interessi erano altissimi all'epoca i soldi li trovavi dappertutto però avevano un costo e allora dopo un po' mi sono trovato molto indebitato faccio una domanda in quel periodo c'era un punto di riferimento nella tua vita con cui potevi confidarti a cui potevi chiedere un consiglio no nessuno perché mi vergognavo perché avevo paura perché cioè è scattato un altro tipo di paura non avevo più paura degli eventi in quel momento ero pronto a tutto ma avevo paura di perdere la faccia cioè già vedivo i titoli personaggio radiofonico che diventa un bandito capito una roba del genere io di quella roba lì avevo terrore ed è quella che mi ha fregato a me perché per non arrivare lì io ho trovato qualsiasi espediente mi sono arrampicato da qualsiasi parte ho fatto qualsiasi debito perché non si sapesse quella cosa lì preferivo passare dal giocatore scemo e compulsivo piuttosto che si venisse a sapere che ero colluso con cose di cui io ero all'oscuro ma poi quando cominci a giocare veramente e quindi lo fai con i soldi non tuoi ma lo fai con i soldi in prestito a cosa giochi? gioco essenzialmente ai cavalli una volta misi 60 milioni di lire su un cavallo che un mio amico mi garantì perché lo guidava lui se sarebbe arrivato primo si era messo d'accordo praticamente con tutti fuorché con uno quell'uno lì l'ha battuto di narice sul palo ho perso 60 milioni per 3-4 centimetri cioè quello è proprio il periodo di follia più assoluta perché lì cioè non riesco a capire né dove sono né cosa sta succedendo né se sono veramente diventato un giocatore compulsivo né perché ho dovuto fare le cose che ho fatto cioè sono nella follia più totale ed è il periodo in cui sono più pericoloso perché in quel momento lì io posso far qualsiasi cosa davvero però dovevo mantenere sempre la mia immagine in radio e il nostro signore ma ho l'universo chiamalo come vuoi mi ha dotato della forza che come schiacciavo del pulsante io tornavo a essere i baldini della radio però imparo la strada imparo le regole della strada imparo come ci si comporta imparo a non aver più paura diciamo che anche se ne avrei fatto volentieri a meno però mi ha servito comunque mi è servito perché ho scoperto una parte di me che non conoscevo ho scoperto che io riesco ad andare anche più in là di dove pensavo che fosse il mio massimo il mio top e niente in questa follia collettiva io vado avanti diversi anni fino a che diventa insostenibile quando tu ti rendi conto di aver perso tutto sì due miliardi sì e a un certo punto il tuo tenore di vita è alto non ti basta chiedi soldi in prestito c'è un momento in cui dici ma un momento non passano anni dopo mesi dici aspetta qua qualcosa deve obbligatoriamente cambiare perché finisco che o mi mettono in un sacchetto dell'immondizio faccio l'homeless no perché io pensavo sempre nel colpo di fortuna del lavoro è perché è come se cercassi sempre la via più facile ma io quando vedo una via troppo facile so che dietro c'è qualcosa che non quadra no quando sei in quel giro là quando sei in quel vortice perdi il lume cioè ti accorgi di fare una cagata ma la fai perché dici magari non lo è cioè lo sai perché hai ragione lo sai tu dici otto volte su dieci è una cagata ma se quei due sono veri e lo fai perdi il lume della ragione quindi da quel momento contrai continuamente debiti sì Claudio ha provato ad aiutarmi ma non sapeva tutto questo lui pensava fosse un giocatore perché eri diventato un mitomane dicevi bugie quindi le persone ti potevano aiutare perché ogni giorno ti inventavi eri un creativo incredibile ma nella bugia ma dici bugia anche a te stesso ovviamente anzi ci credi poi a tal punto che non ti ricordi qual è la verità la fai diventare vera arrivi a un punto in cui non sai più qual è la verità qual è la falsità dove sei in questo momento sei in questo mondo è vero oppure stai sognando oppure te lo sei inventato oppure perdi completamente il lume ho visto un'intervista dove Linus che ti ha prestato ai tempi 100 milioni era contrariato il minimo e tu dichiaravi che non gliel'avevi mai ridato e che probabilmente non solo non gliel'avevi mai ridato ma non potresti ridargli all'indietro li avessi li riderei anche domani sì sì ovviamente che lui è una di quelle persone mi ha voluto veramente bene e lo immagino il direttore della radio perché dopo cecchetto arriva Linus come direttore quando viene acquistata Radio DJ dal gruppo L'Espresso il tuo direttore il tuo datore di lavoro ti presta 100 milioni vuol dire che ti vuole bene ti sta aiutando per uscire dalla merda e quando arrivi a quello stadio non puoi non renderti conto che sei non te ne rendi ancora conto no non te ne rendi conto pensi quasi che ti sia dovuto fammi immaginare la scena tu vai da Linus cosa gli dici per farti dare 100 milioni? Linus sono nei guai seri devo risolvere non sto lavorando bene te ne sarai accorto ho bisogno di soldi quanti? 100 milioni ci pensa tre minuti poi mi dice vabbè te li do però inizia veramente a lavorare a mettere la testa su quello che fai e quando gli dici che gliele avresti ridati? appena posso qualche mese sono stato vago perché sapevo che non gli potevo dare una data però lui mi disse una cosa molto bella lui mi disse se tu ricominciassi a lavorare come sai già con quello mi ripagheresti quella cosa lì mi doveva dare lo stimolo a me te l'ha dato? no quando sei lì se sei nel vortice negativo anche mia madre non mi avrebbe dato lo stimolo sei in un vortice finché non spezzi quella catena diresti bugie anche a te stesso al nostro signore cioè non rimaniamo nella scia del lavoro poi dopo entriamo in quell'altra scia parallela quindi da lì a mesi avresti ridato a lui i soldi e in più dal giorno dopo avresti switchato il tuo mood il tuo atteggiamento nel lavoro poi i mesi passano non switch al mood non gli ridai i soldi che succede? succede che faccio un secondo errore che non è ancora quello più grosso quello più grosso viene invece dopo nel 99 quando ho cambiato radio in che anno siamo mentre stai parlando di Linus 97-98 quel periodo arrivo al punto di dire ok la cosa più brutta di cui mi vergogno è questa faccio un ricatto morale purtroppo sono in una condizione per cui non posso più lavorare e me ne devo andare dentro di me penso se ci tengono a me mi tengono e mi pagano i debiti Linus l'avrebbe pure fatto perché Linus ci teneva veramente a me ma c'erano i signori dell'Espresso che non si fanno babbare dal primo scemo dicono signor Baldini se vuoi rimani così a queste condizioni se no ci dispiace io allora a quel punto lì ho la botta d'orgoglio e dico me ne vado e non solo gli faccio causa pensate la follia mia che ho perso che poi ho perso cioè lì per drenare i soldi avresti fatto qualsiasi cosa faccio st'errore marchiano lo pago lo pago nella maniera più brutta perché dopo un po' mi trovo senza lavoro in mezzo a una strada con una causa persa quelli dell'Espresso secondo me sempre sul consiglio di Linus non mi chiesero danni dissero vabbè casomai un domani avremo altre occasioni di lavoro o ce li faremo là compensiamo e mi vollero bene perché mi potevano veramente portare via dei soldi io mi trovo con il fisco messo malissimo mi trovo con i debiti ormai levitati avevo il pil del Burkina Faso me ne scappo e me ne vado a Firenze me ne vado a Firenze dai tuoi genitori mi rintano dai miei genitori e che gli dici? eh guarda adesso cambierò il lavoro arriverà qualcosa di meglio perché dentro di me ci credevo davvero che arrivassi qualcosa ho detto ma guarda che non è finita sicuramente qualche matto che sa che non sono radio dj che mi vuol riprendere ci sarà ma loro ti chiedono perché? eh perché ho una causa di lavoro non mi hanno pagato glielo ho incartata sai poi loro poverini i miei genitori erano fuori da quella realtà erano fuori da quella realtà gli potevo dire qualsiasi cosa però mio papà era molto preoccupato mentre mia mamma un po' la beveva mio papà non la beveva e l'ha fatto un discorso da padre a figlio? sì più di una volta perché mio papà aveva cioè per lui era sempre ragazzino di 7-8 anni ha avuto sempre questo modo protettivo di relazionarsi con me io gli dicevo guarda papà no è così adesso c'è una causa in corso ma ora vedrai tra qualche mese mi capita la botta giusta ho già qualche invece non avevo la minima idea e quelli a cui dovevi dei soldi ti venivano a cercare lì a casa? no perché non sapevano dove ero però mi arrivavano delle telefonate bruttissime ero messo molto 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 male morale della favola mi arriva la botta di culo Giorgio Bacco rileva Radio Italia Network tramite un'altra bravissima persona che lavorava per Radio DJ Guidi si chiamava che è morto un po' di tempo fa molto giovane mi contatta e mi dice guarda che questo Giorgio Bacco vuole sapere qual è il tuo problema quali sono i soldi che devi se tu vai a lavorare per Radio Italia Network e gli fai uno show alla mattina loro vogliono fare una happy radio una radio dove ci si diverte una radio dove hanno bisogno di trasmettere felicità tu sei il personaggio ideale dalle 6 alle 10 del mattino fai il morning show e lo dovevo fare con Angelo Pintus che all'epoca era un ragazzo che era venuto dai villaggi e Max Vitale che è quel tizio che adesso su striscia ogni tanto fa quello piano di moneta è presente Max ok io ideo la compagnia delle fave che va in onda dalle 6 alle 10 la mattina Giorgio Bacco mi dà un miliardo cash però io ne avevo tre di debiti lui mi dice di quanto hai bisogno vedi un altro errore che tu fai tu hai bisogno di tre hai paura di spaventare la gente ne chiedi uno ma chiedine tre a quel punto lì se uno non te li vuol dare ti dice te ne posso dare uno poi cioè capito invece no tu dici uno lo sai se fa così ed è un altro errore questo è un altro monito dove ti impicchi ancora di più non lo fate mai non lo fate mai dite la verità e soprattutto non rimanete da soli perché se rimanete da soli siete prigionieri di voi stessi non ne uscite mai avevi una persona di riferimento no non ce l'avevo e questo è stato un danno incalcolabile mi trovo un miliardo per le mani ne devo dar tre dico facciamone do 4-500 accontento un po' tutti e 500 monito in questa accoccia e faccio la bella vita però quelli a cui devi dei soldi lo vedono che fai la bella vita no ma non lo vedono perché tu non ostenti più di tanto nel senso tu sai di averli sei tranquillo fai una vita decorosa non ai livelli di prima però decorosa a chi avanza dieci dai due e gli dici ora vedrai sono ripreso la incarti persone che avrebbero potuto farmi male perché io ho sempre avuto questo modo di fare che un po' li ha ammaliati anche le persone più brutte mi volevano bene perché sapevano che ero un coglione non ero cattivo e quando potevo glieli portavo dunque mi lasciavano il collare lungo dicevano ok vai vediamo cosa fai faccio l'errore più grosso della mia vita ed è questo non chiedere i soldi giusti pagare solo un sesto dei debiti che avevo continuare a fare la bella vita e soprattutto ormai il demone ce l'avevo davvero del gioco dopo quindi hai perso il mezzo miliardo e hai chiesto nuovi prestiti sì ho chiesto nuovi prestiti quanto prendevi di stipendio in quel periodo con Radio Italia Network mi sembra non vorrei sbagliare prendessi 20 milioni al mese o qualcosa del genere più ne avevo 500 in saccoccia mi trovo dopo un anno ad avere non più un euro e un altro miliardo di debiti sommato ai due spicci ai due e mezzo che rimanevano che ne hai dati 500 milioni su 3 miliardi 3 e mezzo e non c'erano interessi in conierità lì sono andato lì io a dirgli signori vi ho pagato interessi per una vita adesso non ce la faccio più con calma vi do il capitale ma non ve ne chiedo più non ve ne chiedo più lasciatemi lavorare gli ho detto abbiate pazienza sono un coglione vi ho pagato per un sacco di soldi non ve ne posso dare più fate quello che volete io lavoro lì e abito là quando una persona gli dici una cosa del genere che ne ha già guadagnati tanti e vede che tu hai la buona volontà di volergli di dare il capitale ti lasciano fare e succede che dopo neanche un anno faccio lo stesso identico errore perché se non spezzi il cerchio gli errori sono sempre gli stessi quello di dire ai proprietari di Radio Talanet sono nei guai se non mi date una mano me ne devo andare ciao Baldini questa volta è stato un ciao Baldini senza neanche pensarci no senza pensarci ecco e qui inizia il primo momento brutto vero della mia vita non ho più uno stipendio ho i debiti non so come pagarli sto a Milano dunque in bocca al lupo perché mi possono prendere inizio veramente a contornarmi di amici un po' pesanti e a fare la loro vita cosa vuol dire? frequentare ambienti di balordi e sopravvivere un po' come capitava mettiamola così diciamo i miei guadagni erano un po' naif al che io penso o mi ammazzano o mi arrestano nel giro di breve un anno due di vita poi finisce tutto lì perdo completamente il senso della realtà vivo la giornata ma in quel periodo dove dici la sto rischiando sì non ho soldi il suicidio ci hai mai pensato? dopo quello è accaduto dopo anche lì è accaduto una roba romanzata che te la racconterò e tu dirai ma vai a cagliare spengete tutto andiamo via ma arriva dopo ok no non volevo lo sai perché perché non volevo dare soddisfazione a tutti quelli che mi denigravano cioè tu sentivi di aver la forza per rifarcela un'altra volta? sì sì io dico qualcosa succederà però viviamo la giornata quello che succede succede e anche lì accade il miracolo quello che era il mio capo scout quando ero ragazzino diventa il direttore di Rai Radio 2 Sergio Valsania si ricorda di me si ricorda che ho lavorato con Fiorello riesce a rintracciare il mio numero di telefono e mi fa te la senti di fare un programma la mattina su Rai 2 la Rai a Roma minchia ho detto la Rai da Radio DJ Radio Italia Network Rai cioè la Rai per me era cioè entri veramente nella radio di Stato puoi fare il Pirla e sei nella radio di Stato sì me la sento mollo tutto casa pochi soldi che avevo la macchina tutto prendo parto e vado a Roma senza un euro con la gente che mi cercava ancora inizio a fare il programma la mattina in radio e va benino facevo mi alzavo all'alba dalle 6 alle 8 due ore tu da solo da solo lì però sono chiaro con Sergio Valsania perché avevo un rapporto quasi fraterno lui è stato il mio capo scout mi conosceva da ragazzino gli dico guarda Sergio io ho problemi grossi con Milano devo pagare tanti debiti se mi fai lavorare farmi guadagnare ma non me li dare mettimi qualcuno che amministra lui mi mette questo Marco Zita che era un suo uomo di fiducia ed era un impresario nonché produttore televisivo che faceva tutti i circhi sulla RAI mi amministra lui io inizio a guadagnare lui inizia a contattare le persone di Milano e iniziamo a pagarle un po' alla volta queste persone di Milano all'inizio restire dopo sapendo e immaginando che era l'unico modo che avevano per rientrare ci stanno tutti facciamo un piano di rientro inizia a guadagnare non molto quanto guadagnavi? prendevo 5-6 milioni al mese a un quarto di Radio Italia Network? sì ancora sì era ossigeno 500 mila lire a uno io prendevo un milione al mese più avevo una casa pagata mi bastava quello però per me era un modo per iniziare per depurarmi ma ancora non ero depurato per niente mi chiama Fiorello dice ho sentito che tu fai la RAI io sono a Roma perché non rifacciamo un programma come facevamo a Radio DJ viva Radio DJ viva Radio 2 il direttore Sergio Valsania figurati li mette i tappeti rossi nasce viva Radio 2 e diventa un successo planetario lo ricordo benissimo diventiamo il programma più ascoltato di tutti i tempi alla radio superiamo alto gradimento superiamo tutti da lì poi arriviamo addirittura alla TV Fiorello mi mette anche dentro il cast della televisione mi fa fare stasera pago io prima come voce poi pian piano sempre di più poi facciamo viva Radio 2 Minuti che andava subito dopo il TG era il 2008 dove io proprio con lui uscivo proprio in onda quindi risbocci rifiorisci rifiorisco succede però che mi va troppo stretto sto perché io guadagno troppo poco per la celebrità che ho avviene l'inverso di quello che avvenne a Milano cioè io guadagnavo un sacco di soldi però a me mi entrava quasi zero e io ero cento volte più famoso di quando ero Radio DJ devo inventarmi qualcosa devo inventarmi qualcosa ti parlo del 2004 2005 ci ricado con le scarpe però più che per il gioco sui prestiti figurati celebre come ero me li lanciavano i soldi me li lanciavano dopo un po' mi trovo di nuovo indebitato fin sopra la testa ma gli hai chiesti a un ambiente romano o sempre un ambiente milanese? ma chiedevo in tutta Italia in tutta Italia chiedevo chiedevo di dire la verità non pagavo neanche interessi cioè perché erano amicizie di amicizie di ma a che ti servivano quei soldi? a cercare di fare una vita un po' più alta per il rango che avevo diciamo nella società poi con Zita è successo mi sono diviso ci ho litigato perché lui ha detto guarda che ti metti nei guai si fai una roba del genere così non ti posso seguire Marco cioè ti mollo se fai così ciao e faccio un altro errore succede che comunque con i fasti della tv e della radio e con il successo che avevo galleggiavo se non che iniziano i colpi negativi e da lì veramente iniziano lo disse a vera nel 2008 Fiorello improvvisamente si rompe le balle non vuole più farlo no dice siamo arrivati a un punto talmente alto di successo che non possiamo arrivare di più anzi da ora in poi caliamo secondo me aveva anche ragione cioè guarda prendiamoci una pausa e vediamo cosa facciamo io mi trovo improvvisamente senza più guadagnare quelle cifre perché io ho pagato anche tanti altri soldi cioè nel senso con quello che guadagnavo con la RAI non ti dico quasi tutti ma una buona parte di Milano l'avevo un po' sistemati mancava poco mancava però ne erano nati altri in giro per il mondo e dunque con quello stipendio un po' riuscivo a parare senza quello stipendio e mi trovo di nuovo in una valle di lacrime nel frattempo io mi ero sposato nel 2008 con la compagna che avevo allora avevo una bella casa facevo una doppia vita nel senso che anche a lei non dicevo tante cose era sempre il modo superandi della menzogna di avere la doppia vita morale della favola arriva un miracolo arriva un altro arriva la Maria Grazia Di Nardo che è una grossa empresaria di Roma che mi dice Marco c'è un questo reality la fattoria ti va di farlo? quanto mi danno? vada forse riusciamo a tirar fuori 200 mila euro più ci sono 100 mila euro di premio per chi vince dov'è? in Brasile io avevo l'inferno qui a Roma andare due mesi in Brasile per una vacanza parto febbraio 2008 intanto Fiorello fa Sky va avanti per conto suo io parto vado a fare la fattoria per fortuna la vinco perché la vinco perché? ma per un semplice motivo mentre gli altri portati via da un habitat naturale che era Roma e buttati quasi ai confini con l'Amazzonia non c'era luce né acqua dovevi mungere le vacche c'erano i serpenti era una roba allucinante per me era il paradiso terrestre cioè il telefono non mi squillava non potevo aver contatti con nessuno ero isolato da tutto ciò che mi stava sulle balle io ero sempre allegro contento la gente l'ha visto ma votato e ho vinto vinco nel momento in cui viene fuori il terremoto dell'Aquila perché io vinco il 18 aprile il 6 mi sembra di aprile era successo il terremoto dell'Aquila Baldini mi fa la produzione tu hai vinto vuoi dare qualcosa all'Aquila e io li faccio gli do tutto e gli do tutto il primo premio di 100.000 tanto ne avevo guadagnati 200.000 dunque glieli do tutti ho fatto un'opera di bene non me ne pento però insomma dopo mi sarebbe tanto quando sei in quel vortice lì 100 in più o 100 in meno li avresti dilapidati comunque quindi è meglio aver fatto un'opera di bene a prescindere ho pensato esattamente questo a me mi durano due mesi lì serve per ricostruire qualcosa li do allora e li do allora vinco penso da ora mi parte tutto e invece da allora non mi parte niente che io non ho più un impresario c'era la crisi 2009-2010 le tv non avevano più grossi budget per fare grosse produzioni ma poi sapendo tutti che non avevi preso 200.000 ma che avevi vinto avranno detto è diventato ricco quindi tutti quelli a cui dovevi dei soldi saranno e ti avranno detto dagli a me adesso dagli a me tutti sai che quando hai vinto purtroppo io ho pensato solo a questa cosa e io a tutti ho detto li do solo a te a tutti l'ho detto però capite ho fatto un altro errore in Marchiano morale della favola mi trovo nei guai seri a un certo punto vengono sotto casa col cannone a Roma dove c'era tua moglie tua moglie 2012 in quel periodo lì Linus mi riprende a radio DJ Marco Zita l'ultimo regalo che mi fa è quello di mettermi in contatto con Linus di mettersi in mezzo e dire facciamo il fine settimana non ti do molto però per lavorare due giorni a settimana era uno stipendio molto alto vieni a Milano due volte la settimana oppure lo puoi fare anche da Roma e fai il marchino all'ora in bocca va bene ok perché era uscito il film il mattino all'ora in bocca che era il film sulla mia vita va avanti tre mesi poi i creditori quelli cattivi veri mi sentono a radio DJ mi dicono adesso i soldi ce li devi fare e allora io venivo spesso a Milano a farla perché se andavo alla sede di Roma me li trovavo sotto lavoro male lavoro veramente senza più con la testa perché intanto ho 53-54 anni e non ho più la freschezza di quando avevo 30 anni quando schiacciavo il tasto non mi estranevo più ma una parte di me rimaneva fuori e sinceramente ho fatto un brutto lavoro ero l'ombra di me stesso dopo un po' con la scusa che erano pochi soldi gli ho detto Linus lascio perdere ma un po' ho anche voluto bene a questi nel senso non gli volevo dare un prodotto volevo che si ricordassero di me come ero prima non come ero diventato dopo mollo anche lì mi trovo senza un euro con il fatto che scome venivano a casa mia a cercarmi a mia moglie le avevo detto tu devi andartene a stare da un'altra parte troviamo una casa e stai lontano da qua abbiamo trovato una sistemazione per cui sei allontanata perché se la rischiamo anche lei in quel periodo perché quando uno impazzisce poi è successo un episodio brutto da quel punto di vista allora io ero l'ultima volta che andai in onda a Radio DJ andavo in onda la domenica mattina molto presto poi dovevo prendere un treno il lunedì e tornare questa persona che mi cerca mi dice fatti trovare perché se no vado da tua moglie io gli dico ok vieni sotto casa mia a mezzogiorno io prendo da Milano il treno alle 6 dalla casa in cui sto a Milano prendo una lama così e me la metto dietro me la metto dietro e al posto di arrivare a mezzogiorno arrivo alle 10 e lo aspetto mi apposto e vedo come arriva vedo che arriva scende vedo mettere la mano in tasca e tira fuori il cannone io mi allontano perché non è facile credimi quando tu hai un conflitto a fuoco avviene sempre a questa distanza se tu vai a 50 metri non è facile prenderti perché dico almeno questo mi lantava solo però non aveva neanche scarrellato me l'ha solo fatta vedere allora io ero rimasto lì col coltello pronto se lui avesse fatto qualcosa per difendermi non volevo attaccare perché comunque era in difetto se non che questo fa la cagata dice adesso salgo su da tua moglie col cannone mollo il coltello perché dico se mi tengo il coltello ritaglio la testa lo acchiappo gli metto le mani in tasca dove aveva la pistola e gli spacco la mano gli rompo tutte e due le dita della pistola gli do una testata e lo rimetto in macchina il fioraio davanti chiama la polizia questo se ne va arriva la polizia dice che è successo niente un ubriaco un litigato lì mi rendo conto che la mia moglie se la stava veramente rischiando lei se ne va e io sapevo già di averla persa perché viveva in questa tensione questo terrore da troppo tempo io mi trovo a non avere una casa a non avere un soldo vivevo in macchina e non avere una moglie e non avere una moglie soprattutto non avere più gli affetti non avere un amico perché la gente era spaventata perché quando successe questo fatto si radunarono tutte le persone si resero conto di come me la rischiavo e si allontanarono fortunatamente avevo una macchina a noleggio da un mio amico che dava le macchine a noleggio che non gliela pagavo cioè me la tenevo ogni tanto gli davo qualcosa ed era la mia casa era tutto ho vissuto in macchina per 5-6 mesi mi lavavo a casa di amici chiamavo l'amico posso venire a casa tua andavo a casa sua mi lavavo oppure se mi dovevo fare un caffè c'era un bar ma non avevo un centesimo mangiavo quando potevo quando mi ospitavano gli amici c'avevo un barista di Olabia in Gloria Paolino che quasi tutte le mattine mi faceva trovare un pacchetto di sigarette e la colazione pagata e ho vissuto così attenzione ricercato cioè nel senso con la gente addosso senza un euro senza una casa e la cosa peggiore per la prima volta in vita mia non avevo la certezza di niente cioè sapevo che probabilmente quella sarebbe stata la mia fine allora un giorno dico vaffanculo la faccio finita tanto peggio di così non può andare che anno siamo 2014 2015 basta cioè mi sono rotto le balle guarda quando uno si ammazza non si ammazza per disperazione si ammazza per sfinimento cioè vuoi interrompere basta non ce la faccio più ma più che altro per la tensione continua oddio qui non posso andare perché ci trovo quelli poi devo litigare poi cazzo guarda come sono ridotto niente compro un tubo qui faccio la prima cagata c'avevo una smart la smart non ha il tubo di scappamento dalla parte del guidatore ce l'ha dall'altra parte avevo studiato tutti i sistemi quello meno indolore mi sembrava il tubo con i gas di scarico compro con gli ultimi soldi c'avevo due spicci il tubo di gomma il nastro isolante e un taglierino allora vedo che è troppo corto il tubo allora dico no niente non devo neanche stare dalla parte del guidatore devo stare nella parte del passeggero a mettere il tubo di qua giro due ore come un cretino per trovare un posto perché io volevo non essere trovato in città volevo essere trovato dopo giorni e giorni lontano faccio una cinquantina di chilometri esco da Roma e finalmente dopo tanto girare trovo una montagnetta con una specie di radura e gli alberi intorno mi metto lì sistemo il tubo freddezza lucidissima proprio ero proprio come fosse una roba normale metto il tubo copro tutto facendo questa operazione avevo lasciato lo sportello aperto del posto di guida io ero nell'altro sedile e stavo facendo questa operazione a un certo punto mi sento arrivare un cartone in faccia da dietro omicidiale mi giro e vedo uno che poteva essere era un estrocomunitario neanche un barbonio comunque era certo mi volesse rapinare allora io cosa faccio istinto di sopravvivenza era un periodo in cui me ne avevo le mani mi giro gli do un calcio lo faccio andare indietro poi gli do un cartone di destro questo porello è venuto in avanti io glielo ho dato pieno è volato di sotto una specie di fossato panico prendo mi dimentico il tubo attaccato metto il moto e scappo meno male non avevo messo il tubo di gomma dentro il tubo di scappamento scappo mi fermo e dico ma che cazzo stavo facendo ragazzi ma che avevo risolto cioè ma vivere è così bello questo è un segnale divino quindi lì ti illumini sì inizio inizio a illuminarmi e lì capisci un sacco di cose allora capisci che la colpa è solo tua ho smesso di dar colpa a tutte le persone ci sono anche delle intercettazioni telefoniche dove insulto Fiorello come mi chiama uno pesante di Milano mi dice oh ma tu i soldi non li fai quel pezzo di merda di Fiorello non me li dà all'epoca avevo perso il lume non sapevi più come giustificarti con le persone me la prendevo con chiunque chiunque per me poteva essere un capo espiatorio smetto di dar colpa alle persone e inizio a chiedere scusa questa è una bella cosa è l'inizio della guarigione sì inizio a chiedere scusa chiamo lì non se chiedo scusa tutte le persone al quale potevo chiedere scusa gli ho chiesto scusa ti vorrei chiedere ma proprio dello specifico smart collina tubo nastro isolante taglierino mancato suicidio perché arriva la persona di rubarti che invece è l'eroe della giornata perché ti salva la vita ma quali sono i passi dopo proprio la mattina dopo come dici riprendi in mano la mia vita chiamo tutti che li avevano chiamato perché tutti subodoravano io stessi facendo una calzata perché non mi sentivano da troppo tempo dalla mattina non mi facevo sentire quindi era anomalo era anomalo mi chiamano rispondo a tutti dicendo non è successo niente ero segnato perché questo mi aveva tirato un cartone ho detto litigato o non per i debili ma una calzata tutto a posto vado a dormire a casa della mia ex moglie prendo la melatonina però ne prendo una dose eccessiva mi addormento alle 10 di sera mi sveglio a mezzogiorno del giorno dopo volavo erano anni che non dormivo 10 ore io dormivo 2-3 ore per notte riesco a capire che a questo mondo ci sono cose belle tipo farsi una bella dormita mi sveglio e dico caspita potrei fare qualsiasi cosa chiamo tutti quelli mi stavano cercando mi volevano ammazzare e gli dico guarda è inutile tanto vero io da te te li darò stai tranquillo abbi pazienza ho fatto una calzata a chiacchiere ce l'ho fatta perché forse mi hanno sentito veramente sincero mi hanno sentito sincero e mi hanno detto ok vediamo e così mi sono creato un po' di tempo per poter respirare e poi succede la cosa che mi ha più segnato che mi ha fatto capire che ci sono cose che vanno al di là della vita terrena vivevo comunque sempre ad espedienti trovo un buchetto che mi pagava un mio amico per stare trovo lavoro a una radio di Roma Radio Rock che comunque è una radio figa Radio Rock mi ha dato una chance mi dava 500 euro al mese che mi servivano solo per mangiare andavo in un bar dove la sera spesso mi stortavo ero un po' ai margini e lì ho incontrato quella che è diventata la mia compagna la mamma di vostro figlio scrissi una poesia perché io scrivo le filestroche lei la lesse mi disse anch'io sto vivendo un periodo brutto lei veniva fuori da un brutto matrimonio troviamoci ci siamo trovati in questo bar da quei giorni non ci siamo più ammollati mio papà si ammala si ammala mio papà e lo portiamo a fare questa tacca anche se sapevamo che insomma era un brutto male parla il plurale perché eri con i tuoi fratelli con mio fratello mia sorella si cagava addosso eravamo mia mamma mio fratello io e mio papà mia mamma rimane con mio papà io e mio fratello andiamo dal primario era novembre del 2016 mi dice guardate ragazzi questo non arriva a Natale che succede? io e Paolo ci guardiamo mio fratello troviamo un po' ci documentiamo su internet inizia la cura e va avanti va avanti morale della favola invece che morire dopo un mese è morto dopo un anno e mezzo con qualche problema gli ultimi due mesi è successo un casino proprio metastasi allo stomaco era li ho detto male allora io mi son detto ero con Aurora tu rimani a Roma io vado a Firenze lui era all'ospedale di Careggi me lo sentivo che non sarebbe durato tanto mi chiama mia mamma e mio fratello dice guarda secondo me ci siamo ok siccome non l'ho considerato molto durante la vita ho voluto assisterlo fino all'ultimo istante volevo proprio vedere l'ultimo respiro esalare sono rimasto davanti a lui tutto il giorno fino alle 21 dalla mattina alle 7 alle 21 lui era in coma già in coma arriva l'infermiera mi fa guardi bisogna un attimo cambiare quel letto lì può uscire un secondo esco torno ed è morto cioè allora tu capisci che c'è qualcosa al di là cioè come se lui mi avesse voluto risparmiare diciamo l'ultimo istante però sono rimasto lì fino alla fine ti manca? mi manca non avevi potuto spiegare certe cose e infatti il giorno dopo su facebook diciamo fece un po' il plateale però scrissi una cosa che ancora penso scrissi se n'è andato un uomo grande grande con un figlio piccolo piccolo ed è quello che penso in realtà quella mi ha cambiato ancora di più perché quando vedi la morte di una persona ti rendi conto che tutto il resto sono stronzate e tu devi vivere che tu sei venuto a questo mondo per campare campare vuol dire anche litigare vuol dire avere momenti di difficoltà vuol dire sbagliare vuol dire non devi mai pensare che cazzo sia la fine perché non è la fine non è mai la fine domani arriva capito? domani arriva con te o senza di te il mondo va avanti tu devi vivere e lì mi ha cambiato poi è nato Leo quell'anno? no mio papà si è andato nel 2018 Leo è nato due anni dopo ecco da lì è partito proprio il momento in cui ho cambiato proprio completamente prospettiva del mondo quando mi sono accorto che lei era incinta lì mi è cambiato tutto facciamo un passo indietro non avevi soldi dopo quel giorni smart e poi decidi di fare un figlio come ricostruisci la tua vita e qui entra in ballolino quella famosa intervista in cui mi dici tu ok vedo lui in quell'intervista era poco dopo Foschera morto mio papà gli fa una domanda Peter Gomez gli dice pensi che Baldini sia più in grado di fare la radio perlomeno a radio alti livelli lui dice no non penso che sarà più in grado di fare la radio perché è troppo preoccupato a sistemare le sue cose non ha la testa per prepararsi io ho detto vuoi vedere che invece continuo a farla e voglio iniziare proprio da zero ma non per sfida nei suoi confronti però tu hai sempre bisogno di avere questi sproni questo deve avere è la benzina della vita e mi sono rimesso a fare la radio l'ho fatta a livelli regionali a Roma? sì a Roma sto ancora facendo faccio un programma che si chiama Marco Male che va in onda dalle 17 alle 18.30 su che radio? dry time si chiama Rid 96.8 una radio di Roma dove mi diverto veramente faccio le stesse cose neanche che facevo a radio DJ a Firenze che facevo a Firenze ho tutti i miei effetti mi sono inventato le mie situazioni metto i dischi che piacciono a me faccio la mia scaletta musicale guarda guadagno relativamente poco e ancora ho qualcosa da pagare perché insomma gli strasci che sono lunghi però come campi? eh mi arrangio però stavolta non mi arrangio più in maniera illegale mi arrangio il mio lavoro ci ho trovato una struttura seria dove mi pagano regolarmente mi hanno assunto questa è una cosa importante perché ti dà uno straccio di sicurezza ho una minima gusta paga più mi do da fare sto scrivendo una cosa penso diventerà una cosa carina quando è nato Leo dopo due o tre mesi ho iniziato a fare dei dialoghi immaginali fra me e lui io che parlo in fiorentina lui che parla in romanesco perché lui è nato il primo di novembre del 2020 all'isola Tiberina che è uno dei posti più romani che esista il giorno in cui la Roma ha battuto la Fiorentina all'Olimpico 2 a 0 dunque io me lo immagino strano perché la mamma è romanista sfegatata lui che mi parla è romano io che parlo in fiorentina e ho scritto già una settantina di dialoghi fra me e mio figlio parlando di vari temi della vita dove alla fine lui diventa più filosofo di me perché lui essendo molto vicino ancora all'utero materno ancora lui è depositario della verità è puro mentre io diciamo sono la persona più inquinata del mondo dunque un po' è lui che insegna a me questi dialoghi immaginari ne ho raccolti 70 Aurora il giorno della festa del papà me li ha rilegati cioè me li ha fatti trovare tutti e penso di farci un libro questo è il mio progetto nuovo visto che uno l'ho scritto ho venduto 70.000 copie l'ho scritto tutto a mano proprio su carta così come ho fatto con questo questo potrebbe essere perché vedi poi alla fine il mio motto è qualcosa succederà io penso che morirò non ti dico ricco ma morirò facendo star bene la mia famiglia dunque qualcosa deve ancora succedere ho una pallida idea di cosa verrà fuori nascerà da questa cosa che sto facendo adesso da questo libro che sto creando se Linus ad esempio per citare una grande radio come Radio DJ invece si ricredesse e ti proponesse un'altra volta no Linus non lo farebbe mai ma fai finta che lo dovesse fare ma lo farei domani lo faresti e riusciresti a farlo con quella qualità quello smalto che hai perso da tanto tempo sì perché mi preparo molto perché io faccio una cosa e ci insegnò Claudio gli anni 90 disse voi dovete essere curiosi dovete tenere un taccuino a notare qualsiasi cosa io sono diventato il primo autore di me stesso l'unica cosa in cui sono bravo non sono bravo alla radio però sono bravo a fare l'autore sono bravo a scrivere le cose e sono diventato autore di me stesso dunque potrei reggere un network tranquillamente prima di arrivare all'ultima domanda mi hai detto che i tuoi genitori parlavi dell'affetto e mi era contato in maniera molto chiara hai detto mio figlio me lo spupazzo il mio peluccio con la tua compagna come vivi l'amore la passione sei geloso che uomo sei quando sei innamorato sei innamorato innanzitutto sì sono molto innamorato ma ho imparato una cosa quando c'è l'amore è tutto esponenziale anche il sesso il fatto che lei sia diventata la madre di mio figlio me l'ha fatta diventare la donna più sexy del mondo non so come spiegartelo veramente guarda io ho fatto più danni di Carlo in Francia ti posso garantire che anche se non sono avvenente ho fatto tutto quello che potevo fare ma non riuscirei più a tradirla non riuscirei proprio fisicamente ad andare con un'altra donna perché mi manca quell'elemento lì chiudo con un'ultima domanda ci sono delle sfumature della risposta che mi hai dato durante il corso della tua vita ma ti voglio chiedere se oggi hai paura della morte no continuo a non aver paura della morte perché ho un figlio io sono già eterno lui è una parte di me non puoi aver paura della morte è un'altra dimensione è una cosa talmente lontana se tu tieni alla vita non puoi aver paura della morte capito? devi aver paura magari di una brutta vita però ho imparato anche a bypassare questo ma non ho paura della morte assolutamente gioco demoni superano all'otto 6 euro una volta a settimana quindi è accantonato quel mondo non me ne frega niente ti faccio un'altra domanda ma poi concludiamo rispondimi sinceramente sì ti danno un milione di euro sì una nuova radio una nuova accordata quindi hanno bisogno di killer come te che sanno fare il mestiere se sono ispirato ok te lo danno suonante come te l'ha dato Radio Italia Network con il conio precedente prendi quel milione dimmi esattamente sinceramente come lo usi 800 mila euro li consegno ad Aurora e gli dico di fare un libretto vincolato da 400 a Leo con 200 mila euro cerco di sistemare qualcosa e voglio fare la vita di uno che guadagna 2000 euro al mese normale normale è quello che mi manca la normalità svegliarmi senza avere il problema di pagare le cose di come arrivare in fondo al mese se uno sarebbe o meno normale questo voglio grazie Marco prego a te grazie a tutti